Musica Prosegue a Meggiugoria in Bosnia-Herzegovina al Festival dei Giovani che Telepace trasmette in diretta questa mattina la preghiera con le catechesi, varie testimonianze nel pomeriggio, altri momenti di formazione e preghiera le rette delle case di riposo per un anziano non autosufficiente o malato di Alzheimer sono spesso insostenibili per i familiari partiranno domenica 5 Pullman da Verona con 250 giovani per una settimana speciale con il centro di pastorale giovanile metà finale assise, intanto prosegue il viaggio in Guinabissau di 8 giovani veronesi che stanno facendo un'esperienza di vita nei paesi africani Buonasera, ben ritrovati dal Tg di Telepace prosegue a Meggiugoria in Bosnia-Herzegovina il Festival dei Giovani che Telepace sta trasmettendo in diretta questa mattina la preghiera con la catechesi e varie testimonianze momenti di canto, formazione, silenzio la presenza di migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo ma vediamo un breve stralcio come già sapete Mary e Smith sono frutto di Meggiugoria sono frutto della preghiera e questo è un semplice atto di amore ogni giorno suggeriamo un pasto per un bambino e così gli diamo l'opportunità di andare a scuola di questa maniera loro sono educati e si liberano dalla povertà al giorno di oggi 2 milioni e 4 mangiano i pasti di Maria e questo assicuriamo in 17 paesi da quando abbiamo iniziato dal 2022 abbiamo servito più di 3 miliardi di pasti e vi ricordo che domani la diretta è a partire dalle 8.50 del mattino nel pomeriggio poi dalle 15.50 con il rosario alle 18 la messa alle 19 in diretta anche domenica e lunedì le rette delle case di riposo per un anziano non autosufficiente o malato di Alzheimer sono spesso insostenibili per i familiari su questo tema serve maggiore chiarezza a dirlo Anna Maria Bigon, vicepresidente della Commissione Sanità e Sociale della Regione Veneto sul tema sono intervenuti anche i sindacati dei pensionati di CGL Cisle Will vediamo sono 328 mila gli anziani non autosufficienti in Veneto dove ci sono 382 case di riposo pubbliche e private con 31.400 posti effettivi le quote sono sostenute per la parte sanitaria dalla Regione per la parte alberghiera dai familiari con un aiuto dalla Regione di 400 euro mensili quando c'è una persona gravemente non autosufficiente spesso si rimpallano le responsabilità dei costi a carico della famiglia perché di ambito sociale o del servizio sanitario nazionale perché sanitario sul tema non c'è chiarezza e le famiglie sono in difficoltà prima di tutto trovare posto perché di fatto solo nel Veronese abbiamo 1500 persone non autosufficienti in lista d'attesa poi dobbiamo anche dire che le case di riposo sono completamente cambiate 20-30 anni fa la non autosufficienza era limitata all'interno degli ospiti adesso abbiamo dei piccoli ospedali quando noi diciamo occorre fare una riforma delle IPAB è proprio in questo senso qua perché i parametri di personale e di assistenza devono essere cambiati sono dei piccoli ospedali e in questo senso va anche la giurisprudenza e la sanità sotto certi aspetti nel senso che il non autosufficiente grave come il malato di Alzheimer il Parkinson avanzato oppure tante altre malattie sono in quota sociale sanitario oppure sanitario è questa la domanda che ci poniamo a nostro parere deve essere preso in carico completamente sotto l'aspetto sanitario in un comunicato anche SPCGL, FNP Cisle e Wilp Wil del Veneto sottolineano come nei casi più gravi non possa esserci una distinzione tra prestazione sanitaria e assistenziale chiedendo anche che venga finanziata adeguatamente la legge da eleganziani sulla gestione dei non autosufficienti da un certo punto di vista se noi lo mettiamo in quota sanità significa che la famiglia non ha delle spese e quindi lo Stato, la Regione, prende in carico completamente la persona perché? Perché da un certo punto di vista insomma le quote sono molto molto elevate noi abbiamo circa 3.000 euro a mese se noi pensiamo che una parte viene pagata comunque in carico alla famiglia, al cittadino, all'ospite sono 1.500 euro circa se è convenzionato altrimenti abbiamo un'intera quota di 3.000 euro e diventa veramente difficile dove li troviamo i soldi? allora noi dobbiamo partire da un punto di vista di priorità noi dobbiamo investire molto di più il 6,4 che investiamo ultimamente di pille è pochissimo è poco rispetto non solo alla media europea che di per sé è più alto è poco rispetto ai servizi che noi dovremmo dare se vogliamo mantenere la sanità pubblica se vogliamo prendere in carico la persona dal momento in cui nasce al momento del fine vita e quindi dando a questa soprattutto nei momenti difficili tutti i servizi di cui merita e ha necessità si terrà il 24 e 25 agosto alle terme di Caldiero la staffetta del donatore Fidas per i donatori di sangue sono già iscritti 180 nuotatori per questa manifestazione a sostegno dell'associazione sono a metà della loro esperienza i giovani veronesi che con Caritas centro di pastorale adolescenti e giovani nel centro missionario si trovano a Namahaka nel nord del Mozambico ormai hanno visitato molte famiglie sperimentando appieno la loro ospitalità tanti gli incontri con la gente mentre emergono i problemi più profondi dal punto di vista sanitario ed economico in un paese dove una bimba con un'infezione non può essere curata perché il padre non ha il corrispettivo di 40 euro e dove gli infermieri sono corrotti situazioni che fanno emergere ingiustizie incomprensibili tante differenze culturali che portano alla rabbia di fronte alle sofferenze mentre la gente regala accoglienza e sorrisi e altri otto giovani veronesi stanno facendo un'esperienza di vita in Guinea-Bissau sempre con il centro di pastorale giovanile sono arrivati in Guinea-Bissau a fine luglio, lunedì 29 si fermeranno in terra africana fino al 19 agosto sono otto giovani partiti con il centro pastorale adolescenti e giovani della diocesi di Verona per una vera esperienza di vita bafatà nella diocesi che da decine d'anni è legata con quella scaligera e con i missionari combognani gli incontri con la gente la scoperta di un mondo nuovo una cultura diversa dal fatto di mettersi in gioco sono qualcosa che resterà nella vita così come gli incontri e le attività come racconta Marta Filippi 19 anni della parrocchia di Cadi David nell'intervista realizzata da Damiano Conati della Caritas che accompagna il gruppo con la sua famiglia siamo arrivati a bafatà domenica scorsa in questi primi giorni stiamo conoscendo i ragazzi della comunità dei comboni con padre Andrea Natuzzi e altri missionari Flora e Giulio e in questi giorni stiamo conoscendo i ragazzi e la loro realtà e anche diverse realtà di missione presenti sul territorio il laboratorio stiamo facendo un laboratorio al drest di questa comunità che si chiama Giunbassata con i bambini aiutati dagli animatori locali insomma quanti ragazzi siete di Verona? siamo otto ragazzi di Verona accompagnati da una famiglia da Francesca e Damiano con i loro due bambini Viola e Giosuè intanto sono ben 250 i giovani che partiranno da Verona domenica prossima con 5 Pullman la loro meta Assisi per un'estate davvero diversa vediamo 250 giovani in cammino verso Assisi domenica 5 Pullman partiranno da Verona per 5 destinazioni diverse Siena Laverna Ascoli Rieti e Loreto sull'onda della GMG che abbiamo vissuto l'estate scorsa quest'anno abbiamo pensato di riproporre questa iniziativa ha ottenuto una risposta come dicevi tu molto entusiasmante nel senso che 250 iscrizioni sono tante non ce le aspettavamo i ragazzi partiranno tutti domenica domenica mattina raggiungeranno 5 posti diversi e poi convergeranno nel weekend successivo ad Assisi quindi avranno la possibilità di vivere questo pellegrinaggio tutti quanti a piedi quindi un pellegrinaggio una preparazione fisica ma anche una preparazione spirituale perché in questi giorni di avvicinamento ad Assisi avranno la possibilità accompagnati tutti da un gruppetto di sacerdoti di vivere anche un momento spirituale e personale molto intenso per loro dalle 5 località diverse partirà il cammino che condurrà tutti questi gruppi di 50 giovani ciascuno verso Assisi per vivere gli ultimi 3 giorni insieme a Santa Maria degli Angeli sabato e domenica l'arrivo del Vescovo Domenico che l'11 agosto celebrerà la messa nella chiesa di San Francesco avete scelto la modalità del cammino che non a caso è una costante dei pellegrinaggi storici ma anche di quelle che ci sono ai giorni nostri perché questa proposta per i giovani? Allora come hai detto tu è una costante e crediamo che anche a livello di preparazione aiuti molto anche a fare tra virgolette silenzio e a prendersi dei momenti per sé e poi arriviamo come accennavamo prima anche dalla GMG di Lisbona dove il pacchetto a piedi che avevamo proposto ha sortito un successo incredibile quindi abbiamo pensato di cavalcare quell'onda e di riproporla questa estate in una terra quella di Assisi dove i pellegrinaggi sono una costante come dicevamo prima poi due giorni con il Vescovo Domenico sarà un momento di grande festa in particolare domenica 11 agosto esattamente il Vescovo Domenico ci raggiungerà per il weekend quando tutti i pellegrini convergeranno su Santa Maria degli Angeli e poi faranno visita anche alla città di Assisi avremo modo di vivere insieme una celebrazione penitenziale e poi la domenica che ad Assisi è anche festa essendo la ricorrenza di Santa Chiara vivremo anche la messa conclusiva con il Vescovo Domenico che appunto ci ha garantito la sua presenza e adesso il prossimo numero di Verona Fedele in questa anticipazione di Nicola Salvagnin cari amici un saluto dalla redazione di Verona Fedele che vi dà degli utili consigli soprattutto se siete anziani per evitare quella che abbiamo definito la ditta truffe e raggiri cioè tutti quei furboni malintenzionati o veri delinquenti che cercano di spillarvi soldi di crearvi danni o peggio ancora attenzione ci vuole pazienza attenzione e non fare le cose con precipitazione perché è proprio sulla fretta e sull'allarme che questi furboni del telefonino del computer e di internet agiscono finito nei giorni scorsi la missione che ha coinvolto alcuni esponenti della chiesa veronese in Terra Santa sono andati in visita alle realtà dall'ospedale pediatrico in giù con cui da anni la chiesa di Verona collabora hanno sentito i problemi e le esigenze che sono tantissime in questi tempi assurdi hanno riportato qui a Verona appunto questi gridi di allarme e di aiuto e proprio di aiuto c'è bisogno la Caritas veronese si è messa a disposizione Verona fino agosto sarà invasa tra virgolette da 18.000 scout provenienti da tutta Italia capi scout che si trovano eccezionalmente appunto nel nostro territorio e che coloreranno di solidarietà di amicizia e di ecologia alcuni giorni del nostro agosto poi riportiamo un'indagine fatta dalla Fondazione Nord-Est che è un'emanazione del sole 24 ore che parla chiarissimo in quanto a numeri da qui al 2040 serviranno un milione di lavoratori in più cioè un milione di lavoratori che non si trovano in Italia è una questione molto semplice se si guarda al discorso benessere senza quei lavoratori il nostro benessere economico e sociale si pensi per esempio alla questione delle badanti e delle golf sarà a rischio ma a rischio concreto pensiamoci un saluto da Nicola Salvagnini e con questo termina questa edizione del Tg di Telepace l'appuntamento è per lunedì prossimo dopo le dirette di Meggiugori di Meggiugori Grazie a tutti.